Questo è il Penna Trail in edizione, voglio un applauso per voi, forza amici! Sietevi da convinti di questa quinta edizione, un grazie a noi degli amici del CV Rossini, un grazie anche da tua parte mia a iniziare l'epistocolo e ci siamo! 5, 4, 3, 2, 1, buon divertimento amici del Penna Trail! Grazie amici per i saluti di quest'oggi alla quinta edizione del Penna Trail! Buon divertimento, un grazie a me anche alle scope, grazie amici del CV Rossini! Sono appena partita la quinta edizione del Penna Trail, grazie amici!